guardate cosa mi hanno regalato e invece mi farei regali questa me l'ha regalata Stefano, grazie Stefano, questa me l'ha regalata Paolo grazie Paolo so che posso fare di meglio so che posso fare di meglio, sono agli inizi, sono agli inizi questo è il giocattolino qui, io lo desideravo, ne ho parlato, qualcuno l'ha sentito e me l'ha regalato farò esperimenti con questa telecamera che è importante perché il mio mestiere del futuro è infettare, io devo infettare la gente i dottori li curano e io li devo infettare ognuno ha il suo ruolo nella società e questa mi servirà, cercherò di utilizzarla nel modo migliore perché bisogna coinvolgere l'interlocutore in presa diretta, nel senso di farlo partecipare farlo sentire partecipe della situazione perché bisogna partecipare è finito il tempo delle chiacchiere sono finite le chiacchiere, i chiaccheroni ci hanno stufato adesso noi siamo la squadra di quelli che fanno i fatti e i fatti vanno anche stimolati bisogna dare l'esempio una volta che si dà l'esempio bisogna anche cercare di coinvolgere coinvolgere nel verbo le persone che sono pronte naturalmente non tutte le persone che sono pronte e noi siamo pronti noi siamo pronti anche per questi lo sapete, si lo so adesso può fare anche un po' ridere siamo un po' avanti all'IRCAV d'altronde cioè noi facciamo ricerche seriamente a 360 gradi e siamo convinti di poter utilizzare queste tecnologie in maniera propositiva funzionano, funzionano saranno utili questa telecamera qui sarà utilissima questo oltretutto si sgancia è fantastica guardate che spettacolo ha la sua molletta poi ha un sacco di altre ad alta definizione questa mi fa le riprese ad alta definizione e ha la sua mascherina impermeabile che è fantastica per fare cose fantastiche questa è la sua scatolina guardate cosa mi ha regalato Stefano guardate che bella geseno impermeabile si può toccare anche nella bicicletta in qualsiasi supporto ok all'IRCAV usiamo questa roba qui ad ora in avanti siamo avanti grazie Stefano grazie Paola grazie 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 Angelica grazie a tutti ma i miei regali piacciono poi voi mi fate dei regali che servono all'IRCA non sono regali futili sono regali che importanti siamo grandi siamo grandi siete fantastici sono anche un po' un casinazzo no il cappello non è male il cappello non è male io sono carino l'Italia ha vinto la prima partita dall'IRCAV di Cesena forever